E affrontiamo quanto accaduto alla scuola istituto comprensivo Iqbal Mazik Pioltello, siamo nell'Interland milanese, questa giornata di chiusura della scuola per il primo giorno del Ramadan dal 10 marzo al 9 aprile, questo è il periodo, disposto credo dal dirigente scolastico, dal preside. Ora, polemiche su questo, è una zona ad alta integrazione multietnica, circa il 40% dei ragazzi sono di origine extracomunitaria. Sta di fatto che la festività del Ramadan non rientra, diciamo, non nelle nostre festività di chi è cattolico o professa altre religioni, per carità, ma non rientra, e questo ce lo dice il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, in quelle che sono, diciamo, le disposizioni che regolano il calendario scolastico. Il calendario scolastico di una scuola è regolato per le valutazioni che riguardino vacanze, feste e celebrazioni. Vi è invece, quali sono i derogabili? Vi è invece la possibilità di derogare per esigenze di natura formativa, per esigenze di natura didattica, e allora se consideriamo la chiusura precedente, ma anche la prossima, come è stato annunciato per il 9 aprile, se non sbaglio, e quindi la festività del Ramadan come una esigenza di natura didattica come offerta formativa, nulla questo. Se non è così, se ne facciamo una questione ulteriore legata alle festività, alle celebrazioni o d'altro, non si può per quella che è la nostra legge, il nostro principio di legalità, le nostre regole, perché tutto questo è appunto coordinato da un calendario che non può essere modificato così, ad input e interesse di un dirigente scolastico o di esigenze particolari.